Dopo oltre 50 anni riapre restaurata la Cappella di Santa Maria dei Pignatelli nel centro antico della città. È uno degli scrigni più rari della Napoli del Rinascimento, allineata lungo il Decumano Inferiore, dove si incrociano Piazzetta Nilo e San Biagio dei Librai. Grazie al finanziamento europeo del grande progetto Centro Storico Unesco, affidato per l'attuazione al Comune di Napoli e al lavoro dell'Università su Rorsola Benincasa, che dagli anni 90 ne è proprietaria dopo la donazione della famiglia Pignatelli, la Cappella, che negli ultimi anni è stato oggetto di ripetuti atti vandalici, viene restituita alla città. In realtà questa Cappella non è la prima volta che si apre o che tentiamo di riaprirla. I lavori di restauro dell'ultima tranche sono finiti ormai a dicembre del 2015. Dopo quella data è stato un paziente lavoro per cercare di integrare questi importanti restauri di cui parlavo poco fa con alcune, ne dico una sola. Pensate che nella Cappella, capolavoro del Rinascimento napoletano ed europeo di Caterina Pignatelli che è alle vostre spalle, opera di Diego Desiloe, mancavano ancora, dopo i restauri, le statue che erano state rubate e vandalizzate con gli altari rotti, i sepolcri spezzati, e che da decine di anni erano ospitate al Museo di Capodimonte. L'operazione un po' delicata che è stata fatta è stata quella di riportare queste sculture rubate negli anni 70 nel loro contesto, con il risultato che oggi voi potete vedere ma che tanti di noi vedono per la prima volta, perché è difficile che qualcuno le ricordi prima del 1975. Ma pensate che durante i lavori di restauro anche l'altare settecentesco alle nostre spalle, che era stato smembrato pezzo pezzo e rubato, poi recuperato dai carabinieri, è stato ricostruito quasi totalmente. Prata ieri con il sindaco Luigi De Magistris ed il direttore del Sororso Lalucio D'Alessandro, la Cappella Pignatelli, oltre alle attività accademiche e scientifiche dell'Ateneo, avrà una destinazione pubblica per attività culturali, convegni, mostre, spazi di informazione e documentazione sul centro storico, attività musicali, cinematografiche e teatrali. Da oggi comincia un programma di aperture che sarà aperto ai turisti e ai cittadini, naturalmente con tutta una serie di sistemi di visita, ma è una cosa che in qualche modo ha lo studio. Noi abbiamo per il momento questo mese di apertura, il mese di giugno e il mese di luglio, e poi adesso stiamo facendo un programma per il futuro. Siamo molto felici perché questo è un luogo chiuso da tantissimi anni, immemorabile ormai. Nel cuore di Napoli, un luogo così bello, con opere anche ritrovate, davvero un grande giorno per la cultura di Napoli.